Quando i pazienti arrivano in ospedale trovano medici più disponibili, trovano i reparti non più affollati, trovano professionisti che hanno fatto una grande esperienza su come, diciamo, maneggiare questi malati che talvolta sono molto gravi. E poi ci sono anche delle cure, fortunatamente, farmaci che erano già disponibili sono stati dimostrati essere efficaci nella terapia delle forme almeno le più gravi. Sono farmaci per lo più che vanno a inibire il sistema immunitario perché una particolarità di questa malattia è che il sistema immune è nostro amico nella parte iniziale della malattia, ci difende e se ci siamo vaccinati non ci fa ammalare, ma nella parte finale della malattia è invece uno degli elementi che causa i problemi. Per questo i farmaci che si sono dimostrati efficaci sono stati i farmaci che inibiscono il sistema immune, che si usano appunto però quando un paziente è grave. Sono sia farmaci antichi come i cortisonici, che sono conosciuti da tanti tanti anni e si sono dimostrati molto efficaci, e molto efficaci si sono anche dimostrati farmaci innovativi, fatti da anticorpi monoclonali che bloccano specifici componenti che attivano l'infiammazione, come il tocidizumab, che aiutano nel diminuire la mortalità di questi pazienti. Questo unito alla conoscenza, per esempio, del fatto che questo virus può causare disturbi anche della coagulazione, non è un virus che colpisce solo i polmoni come l'influenza. Ecco, anche in questo caso noi abbiamo farmaci che possono andare a modificare la coagulazione del paziente dandogli migliori possibilità di guarire. Quindi, senz'altro, chi si ammala oggi è destinato ad avere dei trattamenti molto più efficaci di quanto non accadeva un anno e mezzo fa. Ma, ricordiamoci, oggi esiste la possibilità di non ammalarsi. Questo si può ottenere vaccinandosi con un vaccino sicuro ed efficace. Quindi è questo quello che dobbiamo consigliare a tutti i nostri pazienti. La cura migliore è non arrivare in ospedale.